Ciao a tutti, io sono Lion, bentornati sul mio canale e benvenuti al primo episodio di Jurassic World Evolution 2. Sfortunatamente sto giocando con la musica silenziata, quindi non ci sarà l'audio classico di Jurassic Park e Jurassic World, perché ovviamente è soggetto a copyright, quindi non potrei pubblicare il video. No, non voglio uscire, voglio giocare. Ci sono, diciamo, differenti modalità di gioco che si possono affrontare. C'è la sandbox, quindi dove costruiremo la nostra isola, la modalità sfida con, insomma, delle caratteristiche molto, molto complesse da portare avanti. C'è la modalità campagna, quindi seguiremo un po' il tutorial e il corso degli eventi di Jurassic World Evolution 2 e la teoria del caos, che è quella che andremo a giocare oggi. Che cos'è la teoria del caos? Andremo praticamente a rivivere tutti i momenti dei precedenti Jurassic Park. Quindi abbiamo il primo, abbiamo Jurassic Park San Diego, che sarebbe The Lost World il secondo, poi abbiamo Isola Sorna nel sito B, che è Jurassic Park 3, e poi abbiamo gli eventi di Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom a Isla Nebula, Nublar, e poi abbiamo Jurassic World Dominio, che credo che lo devo comprare, ma, insomma, sembra si comprerà. E quindi iniziamo dall'inizio e ripercorreremo, insomma, un pochino i passi di Jurassic Park. E selezioniamo la campagna, io ho fatto, insomma, la prima per vedere un attimino se era un contenuto da portare, devo dire che è estremamente divertente, quindi iniziamo e godiamoci il video. Quanto vi porto indietro il video, raga, non potete capire. La esperienza del DNA di dinosauro ci hanno portato a questo. La vita, come non si vedeva su questo pianeta, da 65 milioni di anni. Jurassic Park, sappiamo com'è finita, ma e se ci fosse stata una persona come te ad arginare, almeno in parte, la superbia umana? Per vincere la sfida dovrai assicurarti che Jurassic Park sia sicuro per i visitatori. Come no? L'avventura che hanno sempre sognato e non vogliamo che sia l'ultima. Pronti a sfornare 164 T-Rex dentro al parco. Bello, bello. Io mi ricordo Jurassic Park era il mio film preferito di quando ero piccolo, cioè in realtà lo è ancora, perché è uno dei miei film preferiti, ma io sono veramente incastrato con i dinosauri. Ah, ovviamente ragazzi... Beh, aspettiamo il video. Un paradiso? Ma manca ciò che c'era un tempo. Dunque ce lo rimetteremo. Qui la gente vedrà qualcosa di spettacolare. I dinosauri. Non più soltanto nella nostra fantasia. Dinosauri in carne e ossa. E nel momento in cui li vedranno, nell'attimo di meraviglia, di magia, beh, tu sarai parte dello spettacolo. Jurassic Park aprirà nei tempi previsti. E il mondo tornerà a essere ciò che era. La terra dei dinosauri. Peccato per il doppiaggio, ma penso che era... Il vecchio doppiatore non ci sia più di Hammond. Vedo che ti stai ambientando. Vorrei presentarti Lily Alford, la direttrice delle operazioni di... Vabbè, l'Emo ci presenta un po' di cosine. Tutte le informazioni di cui hai bisogno. Grazie, dottor Hammond. Chiamami John, per favore. D'accordo. Allora, come il dottor Hammond a John vi ha già detto, intendiamo rendere Jurassic Park operativo e sicuro... Non si velocizza, chiacchierate questa. Sarebbe stato carino. ...che erano ritenute letteralmente impossibili. Perciò sarà una sfida. Rendere possibile l'impossibile. Rendere possibile l'impossibile, dai. Sì, mi piace molto. Ok, allora, diciamo come grafica è molto similare... Sì, zitta un secondo, Giovanna Altadè. È molto similare a Jurassic World Evolution 1. Insomma, questa schermata è molto, molto identica. Però le nuove meccaniche, secondo me, sono carine. A me piace molto. Insomma, lo sto giochicchiando anche da solo e mi sta divertendo un sacco. Allora, dobbiamo costruire un centro visitatori. Il centro visitatori ci serve praticamente per, ovviamente, fare entrare risorse al nostro parco. Ora, ovviamente, è scriptato, quindi è la prima missione che ti introduce un pochino il gioco. Mettiamo il centro visitatori. Dall'altro, graficamente, ragazzi, ovviamente, magari voi non apprezzate al 100%, perché io sto giocando in 2K come risoluzione. Ovviamente, quando carico il video, un pochino si perde. Però, devo dire, è molto, molto, molto bello da vedere. Cioè, sto giocando a 62 FPS e sto a cannone, mentre sto anche registrando. Quindi, insomma, non è male. Devo dire che, graficamente, è uno spettacolo. È veramente uno spettacolo per gli occhi. Poi, insomma, ci sono degli elementi un po' iconici che ti portano sempre un po' indietro. Se stanze non servono, non so se capisce perché l'entrata era leggermente diversa, il centro dei visitatori, ma va bene uguale. Andiamo con il centro di sviluppo scientifico che ci serve per la costruzione e l'estrazione dei fossili. Quindi, andiamo a mettere la struttura. Dobbiamo collegarli anche con delle strade, ovviamente. Quindi, allora, facciamo partire una strada da qua e la portiamo qui giù. Bene. Poi, facciamo partire un'altra, così. Sentiero non collegato. Lo so, lo sto collegando. Solo che, no, vorrei collegarlo da qua sopra. Cerchiamo di stare rasenti all'acqua in modo da guadagnare magari spazio di costruzione per future strutture. Siamo collegati, no? Perfetto, ci siamo. È possibile accedere alla ricerca? Dobbiamo ricercare un'incubatrice. Apprimiamo ESC, andiamo in sala di controllo. E andiamo qui. Per ottenere i dinosauri che ci servono abbiamo bisogno innanzitutto di un'incubatrice. Costruiscene una, così io e il mio staff potremmo usarla. Ok. Praticamente l'incubatrice ci permette di, in modo molto banale... Ah, ecco, questa è la nuova Features. Praticamente, vedete, come requisiti abbiamo bisogno di due punti, i nomi non mi ricordo, quelli con le rotelline e due punti con l'ampolla. Adesso i nomi, perdonatemi, ma non ricordo quali sono. Perché, insomma, non è che ci ho giocato tantissimo. Quindi dovremmo scegliere uno scienziato che sia effettivamente in grado di ricercarlo. Per esempio, lo scienziato Mannan non è, insomma, particolarmente efficace in questo, no? Vedete, c'ha... Ah, non me li metti i nomi? Non me li metti i nomi, vabbè, non fa niente. Non mi metti i nomi delle risorse. Magari possiamo selezionare Nagashima, che mi sembra leggermente più in gamba rispetto agli altri scienziati. Te do 50.000 dollari e inizia a fare la tua ricerchina. Vi dicevo, niente, velocizziamo il tempo in modo che la ricerca si velocizza un pochino. Oh, eccoci qua. Costruisci l'incubatrice operativa. Questa viene da Jurassic Park, Jurassic World Evolution 1. Vai. Colleghiamola sempre ad una strada. Allora, in teoria, qui ci potremmo mettere poi un qualcosa per i visitatori, quindi questo spazio mi serve. Allora, lo facciamo proprio corto, corto, così. Lo potremmo anche fare rasente al... Lo potremmo fare così? Ok, non proprio drittissimo, ma almeno abbiamo sempre spazio per costruire. Non so quanta roba mi farà costruire, perché io sono arrivato al punto successivo, poi non so bene che cosa succede. Sintetizza questo dinosauro, un veloci raptor. Vai, sintetizziamo il dinosauro. Vedete quanti ne possiamo sintetizzare. Ovviamente questi sono quelli di Jurassic Park, quindi non ce ne sono di acquatici, ma qui ci sono anche dinosauri acquatici. Allora, possiamo scegliere uno scienziato. Ti serve 5 di ampollina, e quindi mettiamo lui 225.000 dollari. Velocizziamo il tempo. Dimensione dell'8, 6 uova. Tasso di sopravvivenza previsto 67%. Attività in corso. Vedete, fa un buon lavoro. Questo insomma è scriptato giustamente, perché ti dice che la sintesi va male. Ti fa capire insomma un pochino come funzionano le nuove sintesi. Il laboratorio riferisce che la sintesi è fallita, nessun uova è utilizzabile. Quindi, scartiamo le uova. È un processo di sintesi che richiedono ulteriori ricerche. Vedi cosa puoi scoprire al centro sviluppo scientifico e fammi sapere. Ok, andiamo al centro sviluppo scientifico. Oh, e qua ci dice. La ricerca ti offre una vasta gamma di opzioni per espandere e migliorare le tue operazioni. Ottieni accesso a nuovi edifici, miglioramenti per edifici, nuove specie e miglioramenti per operazioni. Affide giusti licenziati il compito di ricercare un nuovo oggetto, così da sbloccare l'accesso alla fascia di oggetti successiva. Mostra ricerca. Qui dobbiamo andare e dobbiamo ricercare la sintesi migliorata, dove ci serve un punto praticamente... Ah, mettiamolo qui, dai. Ecco qua. Aggiungi un nodo all'interfaccia. L'abbiamo fatto, no? Ricerca in corso. Beh. La parte degli licenziati la trovo molto carina. Hanno messo anche... Ah, non mi fai tirare sul mouse? No. Abbiamo sbloccato una nuova ricerca. Sintetizza. Incuba rilascia questo dinosauro. Adesso, non so se siamo pronti. Eh, assegniamo licenziati. Vai. Andiamo avanti così. Ci sbrigiamo. Sintetizza in cuba e rilascia questo... Due veloci raptor ci devono uscire. Speriamo che escono diretti. Che io da qua mi sono fermato. Allora, vediamo un po'... Vediamo un po' che mi fai fare. Ecco qua. Che culo. Mi dici che ci devo fare con queste uova, per favore? Vabbè, selezioniamo le uova. Penso sia qua. Allora, aggressivo. Ah, questo è aggressivo. Quindi cambiano i tratti dei bufazzetti che sto tirando fuori. Allora. Informa. Adesso il recupero del vigore è aggressivo. Lui se è un alfa ha dominanza e minaccia. Detesta e minaccia tutte le altre specie. Intollerante e notturno. Preferisce dormire durante il giorno. Sociale. Notturno e informa. Vabbè, questo ce lo prendiamo. Aggressivo e intollerante no. Informa. Beh, dai. Un alfa aggressivo ci sta. Per ora prendiamone due, dai. E comunque, ragazzi, se volete dare i nomi ai dinosauri, ovviamente, basta che commentate e mi dite chiama questo dinosauro così e cos'ha. E io poi, appena, insomma, rigiocherò, cercherò di dare il nome che mi avete suggerito al dinosauro. Vai. Mazza, un milione mi costa sto giochetto? Porca miseria. Costi di parecchio come dinosauro, eh. Allora, popolazione minima 2, acqua 5%, spazio aperto 62, foresta 32, sicurezza 5. Va bene. Ok. Quindi c'è bisogno di una sicurezza di livello 5. Beh, noi ce l'abbiamo di livello 3. Come lo sganciamo? Libera. Oh, me lo fai anche vedere. Beh, non male, eh. Costruisci una struttura a centro di risposta funzionante. Costruisci un posto di guardia. Assigni una scuola di guardia nel controllo del posto di guardia. Iniziamo con un posto di guardia. Costruiscine uno dentro il recinto dei veloci raptor, poi crea un centro di risposta. Allora, assegna una scuola di guardia. Allora, lo dovremmo mettere qua. Costruisci un posto di guardia nel recinto. Vabbè, direi. Costruisci una struttura a centro di risposta. Allora, le squadre di guardiani i moritori hanno il benessere di dinosauri ed eseguono riparazioni all'interno del parco. La squadra di cattura ha i sede di dinosauri pronti per il trasferimento. Beh, io ho visto che... Dove altro potrò metterlo? Forse di qua posso mettere un altro recinto. Quindi magari se questo me lo metto così... Ok. Dopodiché assegno una scuola di guardiani. Vabbè, adesso arriveranno. Mettiamo i miei raptor. Ha bisogno di foresta. Beh, te la mettiamo subito. Ambiente. Foresta. Eccoli la foresta. Meglio. Carburante e cibo. I generatori di energia funzionano con l'ausilio di carburante, il cui consumo varia in base alla quantità di energia che viene impiegata. Le squadre di guardiani, le squadre di cattura, le OMV necessitano di carburante e cibo per completare le varie attività. Tate risorse vengono conservate nei rispettivi edifici. Quando è necessario fa rifornimento di cibo e carburante tramite il pannello informazioni di edifici. Va bene. Energia assente. Non buono? Mettiamo qua una di energia. Ah, giustamente no. Non serve questo. Generatori di usiliari. I generatori di usiliari forniscono l'energia nell'immediato di vicinanza ogni volta che è necessario. Per produrre energia i generatori di usiliari consumano carburante, quindi usano i con moderazione. Colloca dei generatori ausiliari nei pressi delle strutture più importanti e assicura di che dispongano di carburante affinché si attivino qualora l'energia dovesse venire a mancare. No, questo no. Questa è una foresta. Generatori di usiliari. Dovrebbe essere questo, no? Perché questo è generatore di usiliari e due. Ah, rifornisci. Facciamo il pieno. Ok, ho capito. Assegna una squadra di guardiani al controllo del posto di guardia. Quindi, squadra di guardiani 1. Controllo. Carina. Eh, no. Usciamo dal controllo diretto. Aggiungi un'attività. E lo mettiamo. Assegniamo al posto di guardia. Vai. Io immagino che i ragazzi dovranno pure mangiare, però. E questa la potrei pure togliere, in realtà. Togliamo questo inserire. Controlla il benessere dei raptor e ricorda che stanno ancora abituando alla loro nuova casa. Mangiatoie e schevive. Quindi andiamo qua. Mangiatoie e schevive. Lo mettiamo qua. Perfetto. Vediamo un po' i miei raptor di cosa hanno bisogno. C'era tipo un tab, un qualcosa che mi faceva vedere. Forse è questa? Ha bisogno di acqua. Poveraccio, è vero? Questo non beve, se no. Allora, quindi. Mettiamo un po' di acqua. Aggiungi. Posizioniamo dell'acqua. La mettiamo tipo... Qui. Perfetto. Dove si sta a posto adesso, no? Ha bisogno di acqua. Ok, ci siamo. Ci siamo. Beh, l'acqua ce l'hai. Devi andare a bere, ma l'acqua c'è. Giovane amico, quindi... Non credo che tu hai bisogno di più acqua ancora, no? A volte ne metto un altro po' se vuoi, ma mi sembri abbastanza... Soddisfatto. Perfetto. Il parco non può offrire educazione... Sì, ma come cazzo ti toglie questo? È buio. Ammirare da vicino questi maestosi animati... Non c'ho modo per dirgli... Beh, John, possiamo costruire delle gallerie panoramiche che serviranno proprio a questo scopo? Non mi dici... Non volevo mettere giorno. Non mi piace la notte. Non c'è niente. Cioè, è carino, eh? È suggestivo, ma... Ma sicuramente i disoni sono visibili da una galleria panoramica, quindi... Galleria panoramica... Attrazioni. Galleria panoramica. Ah, sì. Vedo che inizi a capire. Cioè, guarda che non mi fa costruire perché è troppo vicino al raptor. Ma dai, su, vattene da lì, fammi costruire. Vattene via, oh. Ok. Perfetto. Andiamo avanti veloci. Così si costruisce prima la nostra struttura. Oh, ci siamo. Vediamo un pochino. Mostra panoramica. Dobbiamo costruire una struttura paleomedica in grado di occuparsi dei dinosauri. Non è che si vede molto bene, eh. Certo. Vogliamo che i dinosauri godano di ottima salute. Ah, ma c'era anche un'altra telecamera. Aspettate un secondo. Ah, ci sono più telecamere. Perché questa mi sa il piano di sotto. Questa è il piano di sopra o viceversa? No. Non mi sembra che... Vabbè. Costruisce una struttura paleomedica funzionante. Centro spedizioni. Paleomedica. Bene. Ma io la farei tutta in questa zona. Mi sembra... Mi sembra buono come posto. Vabbè, c'entra proprio preciso preciso. Vai. Ok. Eh sì, perché comunque i dinosauri poi li dobbiamo anche curare, poverini. Se stanno male... Vanno in qualche modo curati. Eh sì, perché c'è anche il piano di sopra. Per la galleria panoramica. Carino il fatto dell'incubatrice che li vuole trasportare anche altrove con l'elicottero, cioè senza che lo costruisci cento volte. Il centro spedizioni gestisce squadre guidate da scienziati che vengono inviate presso destinazioni remote. Manda la squadra di scavo a recuperare nuovi fossili presso siti di scavo disseminati in tutto il mondo. E estrarre i dati del genoma, del dinosauro e dei fossili al centro sviluppo scientifico. Vabbè. Costruisce una struttura... L'abbiamo... Ah no, dobbiamo fare la struttura al centro di spedizioni. Possiamo inviare delle spedizioni per recuperare fossili. Questa però la mettiamo qua, eh. La cosa che ci serve davvero è la costruzione di un centro spedizioni. Poi potremo estrarre il DNA dai fossili recuperati sul campo e ricostruire nuove sequenze di genoma di dinosauro. Deve essere una nostra priorità. Ok. L'abbiamo messo qua che intanto questa è la parte di sviluppo e ci interessa poco. Però, almeno qui, siamo... Diamo supporto ai nostri piccoli dinosauri. Oh, sta sorgendo il sole. Costruisci, va bene. Mettiamo velocità. È in corso un combattimento? Fammi vedere. Stanno pistando di botte? Vabbè, finito? Vabbè, sono dati due crocchi. Questo però lo vedo male, eh. Convalescente. Beh, ha preso un po' di schiaffi sicuramente. Vabbè, facciamo questa spedizione. Mostra mappa delle spedizioni. Che c'abbiamo? Ah, ce n'abbiamo un pochino. Ah, dobbiamo cercare... Questo è come il primo. Dobbiamo cercare il triceratopo. Il triceratopo, il velociraptor. O no? Che cos'era, scusate? Triceratopos, sì. Ok, triceratopos. Vai. Triceratopos ce l'abbiamo, non qui. Triceratopos. Perfetto. 11 su 6. Quindi ci mettiamo... Ah, qua ci mettiamo meno punti. Ce ne metto 3. È meno 34% di durata. Spedizione più veloci. 47 secondi. Vai, iniziamo l'attività. Ci rimandiamo tutti. Ok, ci mettiamo solo 40 secondi. Volentemente è una scheggia. Sta nel fossile, tipo, via, 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 via. Vediamo un po' come va, ma... Mappa? Vediamo se mi fai vedere le spedizioni. Ah, questa è l'alfa. Infatti ha vinto. Allora, vieni nella schermata dei fossili. Premi tab per visualizzare. Ah, abbiamo trovato nuovi fossili. Che ci facciamo con questi fossili? Penso li dovremo estrarre, no? Triceratopos, Triceratopos. Qua, questi li possiamo vendere. Mentre questi li andiamo ad estrarre. Ah, vediamo un po', stiriamo questo, va? Ah, slot di estrazione 10 su 10, ho capito. Questo vale 5 e questo vale 3. Ah, ho capito, ok. Assegniamo licenziati. Ci metti un minuto. 23 secondi, così. Beh, facciamolo. Vai, 23 secondi. Quindi penso 23 secondi abbiamo terminato anche la parte del Triceratopos, suppongo. No, abbiamo un nuovo geo. Sintetizza, incubare, lascia questo dinosauro. Assicuratevi che gli esemplari siano rinchiusi in sicurezza. Preparo il recinto per i nuovi dinosauri. Beh, sì, ma io non lo vorrei però mettere insieme a loro. Quindi li mettiamo da un'altra parte. Allora, intanto li mettiamo a sintetizzare. 59%. Assegniamo licenziati. Ok, vai. Iniziamo l'attività. E prepariamo anche il nuovo recinto però. Perché io sinceramente non li voglio mettere nello stesso recinto di questi ragazzetti qui. Solo che li dovrò mettere qua. Perché qui mi serve una strada. Ok. Quindi li dovrò mettere da questa parte. Quindi diciamo che... Ok, questo potrebbe essere un po' il mio range. Intanto andiamo a vedere un attimo il lotto del Triceratopo. Come va? Seleziona le uova. Solo uno? Preferisco dormire durante il giorno notturno. Questo ho mai dato, questo ci prendiamo. Ah, questo si è incazzato perché sta lavorando come un pazzo. Sta lavorando come un pazzo. Allora no, fermati qua. Fermati qua. Aspettiamo un attimino. Credo che sia quella la motivazione per cui si è arrabbiato. E... No, lo facciamo un po' più avanti. Lo facciamo tipo... Oddio, potrei pure farlo... Farlo qua. Tanto lo spazio qua per un'altra gabbia ce l'ho. Vediamo se gli serve poi più spazio, ma... Per ora almeno un piccolo recinto per loro ci sta. Ok, facciamo un cancello in modo che possono entrare i nostri... I nostri aiuti. E... Seleziona uova. No, questo è arrabbiatissimo. E io che ti posso fare? Non so che succede se quello è malcontento. Boh, sei rivolta, che fa? Non ho idea. Dobbiamo sicuramente incubarne un altro. Allora, vediamo che succede... Quando si arrabbiano. Questo malcontento che cosa fa? Ci sarà una schermata degli scienziati, secondo voi? Malcontento. Costruisce un altro centro del personale. Va bene, ragazzi. Io direi di terminare qui per ora il primo episodio. Abbiamo, insomma, portato... Parecchie cose. Due... Veloci Raptor. Adesso stiamo facendo i Triceratops. Vediamo che cavolo succede quando... Gli scienziati si arrabbiano. Non lo so. Sciopera. Non c'ho idea. Boh. Io spero che il video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.